Sanni, De Francesco, Mancini, De Sousa, Stivaletta, Di Mercurio, Maccarone, Zandrini, Savelloni, Cosentini, Mancini, Bigoni, Iannascoli, Anderson, Benzaia, Perna, San Domenico, Piva e Triarico. Sarà questa la rosa-rosso-blu convocata per la seconda giornata di campionato di Lega Pro contro l'Arezzo. La carovana che affronterà la prima trasferta della nuova stagione ha una sola parola d'ordine, fare punti. Una partita difficile, come tutte le partite della Lega Pro, perché comunque nessuno ti regala niente, tutti vogliono fare i punti, soprattutto poi quando le squadre giocano tra le mura amica. Quindi ci sarà da soffrire, insomma speriamo di affrontare con la giusta determinazione l'impegno. Una squadra già incontrata in Team Cup, che squadra starà ad aspettarvi tra le mura amiche appunto? Qualcosa ha cambiato, ha preso qualche giocatore nuovo, di questi credo che probabilmente due o tre giocheranno domani. E sicuramente, come anche noi, è cresciuta dal punto di vista fisico, perché noi abbiamo fatto quella partita dopo appena dieci giorni, una settimana di ritiro. Loro forse avevano magari una settimana in più. Adesso sono passati insomma qualche mese e quindi sicuramente anche le squadre saranno in una condizione fisica differente. In più poi dopo è cominciato il campionato. Per noi sappiamo che è un campionato in salita, perché comunque i processi incombono. Quindi abbiamo la necessità di fare più punti il prima possibile. E per loro comunque si devono confermare il buon campionato che hanno fatto l'anno scorso. Quindi sarà una partita sicuramente difficile. E per noi sappiamo che sia un campionato in salita, perché è un campionato in salita. E per noi sappiamo che sia un campionato in salita, perché è un campionato in salita, perché è un campionato in salita, perché è un campionato in salita.